Nella provincia dell'Aquila si vive meglio che nel resto d'Abruzzo. A dirlo è la classifica del sole 24 ore sulla qualità della vita nelle 107 province italiane. Qualità che il quotidiano economico-finanziario misura basandosi su 90 parametri, suddivisi in sei aree tematiche. E quest'anno a pesare sulla valutazione il Covid, che ha provocato decessi, limitazioni delle libertà e della socialità, nonché perdita di posti di lavoro. La provincia del capoluogo abruzzese si piazza a 41esima e quinta, considerando solo l'area di giustizia e sicurezza, mentre i dati peggiori riguardano ricchezze e consumi, per cui sarebbe 77esima. A seguire tra le abruzzesi c'è la provincia di Pescara, che si riconferma al 43esimo posto. Anche qui i dati peggiori sono quelli di ricchezze e consumi, per cui sarebbe 71esima, mentre si piazza quarta in Italia per demografia e società, l'area che racchiude numeri sull'utilizzo di psicofarmaci, il tasso di natalità e mortalità e la presenza di operatori sanitari. A metà classifica Chieti, 56esima, che si classifica sesta per demografia e società, ma 77esima per ambiente e servizi. La performance peggiore è quella della provincia di Teramo, che perdendo 20 posizioni dallo scorso anno precipita al 76esimo posto, soprattutto per quanto riguarda giustizia e sicurezza, per cui è l'83esima in Italia. Mentre i dati più confortanti sono quelli di cultura e tempo libero, secondo questi soli indicatori infatti sarebbe 39esima. Ciò che ancora una volta emerge dalla classifica nazionale è che tendenzialmente al nord si vive meglio che al sud. La provincia italiana con la qualità della vita più alta è quella di Bologna, seguita da Bolzano e Trento. La provincia che invece si aggiudica il piazzamento peggiore è quella di Crotone, in Calabria, preceduta da Caltanissetta e Siracusa.